È una rete che prosegue sulla scia già tracciata da anni, di una certa parsimonia e sobrietà di questa regione che ha provveduto a fare una politica di restrizioni, ma soprattutto di accorpamenti, di istituti ed anche di restituzione al governo centrale di numerose dirigenze. E tanto che siamo a credito e siccome c'è la possibilità che appunto vengano restituite, chiediamo all'assessore, abbiamo chiesto anche questo in consiglio, che qualcosa ci venga dato, altrimenti finiremmo come per la sanità, cioè dove c'è virtuosità poi si rischia che i tagli siano gli stessi delle regioni che invece sono meno sobri. Abbiamo sì dei nuovi corsi, non tanti, abbiamo un censimento di quelli che non hanno funzionato perché c'è anche da dire che spesso erano davvero dei doppioni contigui o di territori troppo vicini e poi non ci sono state le iscrizioni sufficienti e quindi si è provveduto davvero anche a fare una sorta di mappatura dell'esistente. Importante è l'istituzione di un istituto omnicomprensivo in Amandola e importanti i serali, cioè che verranno non sostituiti, rimangono quelli che ci sono, però affiancati dai cosiddetti centri di formazione permanente per gli adulti. È importante anche per il momento, per le riconversioni e soprattutto per la possibilità appunto di rimettere sul mercato, anche dal punto di vista di istruzione, quindi non sono lavorativo adulti che hanno magari perso lavoro eccetera. E però ecco, noi legiferiamo ma i fondi e le risorse sono ancora di competenza, questa è una materia concorrente e non esclusiva, di competenza statale, così che ci hanno detto che non ce ne toccherà uno per provincia ma ce ne saranno al massimo due. Speriamo di fare scelte poi eque sul territorio.